L'inaugurazione della diciassettesima edizione del Festival internazionale di letteratura a Venezia in croce di civiltà ha inizio. Invitiamo sul palco il prorettore vicario dell'Università Ca' Foscari Venezia, Antonio Marcomini, per il saluto di benvenuto. Buon pomeriggio a tutti e un particolare saluto di benvenuto ai nostri autorevoli ospiti e più in generale a tutti voi partecipanti a questa seduta di inaugurazione della diciassettesima edizione di incroci di civiltà. Per me è un grande piacere essere qui oggi con voi avendo visto incroci di civiltà nascere e quindi avete partecipato alla sua prima edizione 2008 quando i riferimenti geopolitici, i riferimenti culturali a livello globale erano profondamente diversi dagli attuali, più facili, meno impegnativi rispetto a quelli a cui oggigiorno stanno di fronte a noi. Quindi oggi più che mai abbiamo bisogno di uno sforzo ulteriore, una capacità maggiore di prevedere il futuro, di leggere nel futuro prossimo venturo. Ed ecco che quindi questo appuntamento primaverile di incroci di civiltà offre a tutti noi questa opportunità. Sono migliaia di appassionati che aspettano questo appuntamento, che lo seguono sull'arco dell'intera settimana su cui esso si svolge e che si interrogano, si interrogano, riflettono sullo stato attuale delle culture, in particolare sul significato di confronto, scontro, dialogo, il significato di incroci, incroci di culture, di letteratura, di arti, di lingue. Pertanto, con grande soddisfazione per quello che è stato finora in croci di civiltà, ho il piacere e l'onore di aprire questa dicesettesima edizione a nome innanzitutto della lettrice Tiziana Lippiello, in missione all'estero e in generale a nome di tutto lo staff dell'Ateneo. Prima di continuare con qualche considerazione leggo il messaggio che ci è pervenuto dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, indirizzato alla magnifica lettrice Lippiello. Ringraziandola per il gentile invito alla inaugurazione della dicesettesima edizione di incroci di civiltà, come già comunicato dalla mia segreteria non potrò partecipare a causa di concomitanti impegni istituzionali, esprimo il mio applauso per questo Festival dell'Alteratura che da ben 17 anni anima in primavera la città di Venezia. Un'occasione per la cittadinanza di assistere a dibattiti, presentazioni degli autori internazionali che anche quest'anno partecipano all'evento. In croci di civiltà, nato nel 2008, in occasione dei 60 anni dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo promossa dall'ONU, rappresenta oggi un motivo di orgoglio per la sua università e per il Veneto. Venezia, come più volte ricordato, è un ponte tra le culture, fra Oriente e Occidente, che mai, come oggi, ha bisogno di far sentire la sua voce, la capacità di unire i popoli, di metterli a confronto per una maggiore comprensione. E questo è possibile grazie a questa kermesse che accoglie culture diverse e autori capaci di interpretare il tempo in cui vivono. Nell'augurare il miglior successo anche di questa edizione rivolgo a lei e a tutti i presenti i miei cordiali saluti. Luca Zaia. Aggiungiamo a questo messaggio del Presidente il fatto che, come accennato anche nel suo messaggio, incroci di civiltà è nell'ambito nazionale unico nel suo genere. Quindi non esistono altri festival internazionali di letteratura che presentano le caratteristiche di incroci di civiltà. Per quanto riguarda l'Ateneo è orgoglioso e fiero di questo evento e quindi colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale di Caforschi e della sua fondazione che hanno partecipato all'organizzazione e che parteciperanno allo sorgimento durante tutta questa settimana del festival. In particolare questo ringraziamento lo rivolgo al suo direttore Flavio Gregori e allo staff scientifico che lo ha coadiuvato e supportato. Infine auguro a tutti voi che possiate anche in occasione di questa edizione avere un'esperienza memorabile di quello che è incroci. Quest'anno incroci presenta delle novità molto significative e quindi nuove rispetto alle edizioni precedenti. Peraltro il significato di questa edizione è accresciuta dal fatto che si svolge nel settecentesimo anno dalla morte di un grande viaggiatore che è stato Marco Polo e quindi mettendo insieme tutto questo esprimo il mio più sentito augurio che questo questo evento possa rappresentare per tutti voi un'esperienza che poi si ricorderà a lungo. Quindi un buon incrocio a tutti voi e grazie ancora per la partecipazione. Invitiamo sul palco per un saluto istituzionale l'assessore all'università e promozione del territorio al patrimonio e toponomastica del comune di Venezia Paola Mar. Buonasera a tutti voi. Benvenuti. È la diciassettesima edizione. Io parto invece dall'ultima frase del video introduttivo di Ca' Foscari che vedo spesso. che è Dreaming with us. A volte, scusate la voce ma se n'è andata, cerco di tenerla qui. Qualche volta noi sogniamo. Io ad esempio questa notte ho fatto un incubo. Pensavo a quello che diceva il prolettore Vicario e il professor Marcomini. Sono tempi che non sono tempi di sogni, di bei sogni, ma sono tempi prevalentemente di incubi, che non sono solo incubi, ma sono realtà. Quindi, secondo me, e credo anche per tutti gli appassionati di incroci e gli appassionati di lettura, gli appassionati di confronto fra i vari mondi, credo che questa edizione sia ancora più importante perché è in un periodo storico veramente molto particolare e molto difficile. Però la cosa che noi non dobbiamo dimenticare, e non ha dimenticato nessuno, vivendo un periodo ancora più difficile, e penso che sia quella che sostiene fondamentalmente la persona umana, è quella di riuscire comunque, ed è una forma anche per certi versi di autodifesa, no? Riuscire comunque a sognare, riuscire comunque ad avere un terreno in cui ci si possa, non dico distrarre perché non siamo distratti, ma ci si possa avere un campo aperto. In un momento di chiusura la lettura, e voi sapete che Venezia è città che legge, anche grazie al sostegno di Ca' Foscari, Venezia è una città che ha avuto, voglio dire, il buon Aldo Manuzio, Venezia è una città, ieri sono andata alla Biblioteca Marciana, quindi voglio dire, Venezia è stato, sul libro, è stato il primo ponte fra Oriente e Occidente, anche grazie al Cardinale Bessarione e alla Repubblica di Venezia. Quindi io veramente vi devo ringraziare, questo è un festival un po' femminile, l'avevo detto anche durante la conferenza stampa, spero che questo conversare con le donne porti anche, con una visione un po' diversa, porti anche a delle riflessioni più di pace, perché ne abbiamo bisogno tutti. Sapete, la guerra, noi ci rendiamo conto della guerra solo quando ci arriva vicina, perché tante volte dimentichiamo che anche in tempi per noi europei considerati meno difficili c'erano guerre e ci sono state guerre in giro per tutto il mondo. Quindi credo che sia veramente un'occasione speciale, ringrazio tutti coloro che si sono adoperati perché in Croci esiste da 17 anni, non è facile portarli, 17 anni per una manifestazione, ma perché è stata sempre capace di rinnovarsi, è stata sempre capace di aprirsi ulteriormente, è stato sempre questo luogo di confronto anche grazie ai volontari, oltre ovviamente ai professori, al personale tecnico e amministrativo, ma anche ai volontari. Ecco, io credo che i ragazzi oggi col loro fare possano darci delle indicazioni, possono dare delle indicazioni anche noi adulti che forse la cosa importante è continuare a sognare, continuare a confrontarsi, continuare a leggere e continuare a immaginare, immaginare e lottare per quello che può essere e deve essere un mondo migliore. Grazie. Applausi Invitiamo sul palco per un saluto istituzionale il direttore generale di Fondazione di Venezia, Giovanni Dell'Olivo. Chiarissimo prolettore Marcomini, Assessore Mar, Professor Gregori, Dottoressa Alfonsi, gentile e affezionato pubblico del Festival di Incroci di Civiltà. Porto con orgoglio e come sempre con un po' di commozione il saluto della Fondazione di Venezia, del suo presidente e dei suoi organi alla diciassettesima edizione del Festival di Incroci di Civiltà. L'inaugurazione di Incroci di Civiltà o semplicemente di incroci, come ormai uso chiamare questo straordinario evento culturale dedicato alla letteratura, ai libri, agli scrittori e ai loro editori, agli studiosi e ai lettori e non ultimo ai librai, è diventata negli anni una liturgia laica insostituibile per i veneziani. Una liturgia nella quale essi riconoscono se stessi nel veder rappresentato in modo così nitido ed esemplare i valori fondanti della nostra democrazia. Valori che ognuno di noi ha tenuto in questo momento difficile a diffondere, coltivare, proteggere con crescente attenzione e motivazione. È dunque un momento collettivo, però è anche un momento intimo, personale, nel quale si possono incontrare amici, colleghi, personalità illustri, conoscenti di vario grado cui siamo comunque affezionati perché qui e ora affermano con noi la medesima urgenza di riportare il dialogo quale architrave della cultura di pace al centro delle relazioni umane. Ed è in forza di questa speciale comunità di intenti che il Festival Internazionale di Letteratura si fa voce potente rivolta al mondo e contemporaneamente al lessico familiare, diventando appunto incroci. Lo ribadiamo come Fondazione di Venezia in ogni occasione pubblica in cui si presentano gli eventi culturali che collaboriamo a realizzare con l'Università di Ca' Foscari. E lo ribadiamo anche questa volta. Incroci di civiltà, ma come anche lo Short Film Festival, il Festival di teatro contemporaneo Asteroide Amor, Musica Foscari, Art Night e tanti altri, rappresentano per la nostra città il migliore esempio di interazione tra Ateneo, istituzioni pubbliche e private, la cittadinanza. Un modello per altre città, altri Atenei, altre istituzioni. Questo modello per incroci è costituito su un paradigma che coniuga rigore scientifico, vocazione all'internazionalità, contaminazione tra linguaggi artistico-letterali nel senso più ampio ed inclusivo, nel quale hanno trovato dimora di anno in anno la poesia, il linguaggio teatrale, la musica e infine quest'anno il cinema con la presenza della grande Margaret Von Troth, a cui va la nostra stima e la nostra riconoscenza per essere presente. È da questa formidabile intersezione e confronto di linguaggi e saperi che si sprigiona il valore aggiunto della terza missione dell'università. E aggiungo, ultimo ma non meno importante tra i valori distintivi, l'effetto sull'indotto economico che questa manifestazione è in grado di produrre nel territorio veneziano e non solo, valorizzando anche la filiera dell'editoria, librerie incluse. Ecco appunto le librerie. Un effetto macroscopico dello spopolamento dei centri storici, delle città date di tutto il mondo è la progressiva scomparsa di librai e panificatori, per cui i cittadini che resistono lo fanno a loro scapito rimanendo di volta in volta a digiuno o di cibo per il corpo o di cibo per l'anima. E ogni volta che si manifesta un segnale in controtendenza rispetto a questo trend, che appare inesorabile, questo è colto con evidente entusiasmo dalla popolazione. E non è un caso che molte delle persone presenti in questa sala siano le stesse che qualche mese fa hanno occupato festosamente le calli di San Polo in occasione dell'apertura della nuova libreria Feltrinelli. E quindi lo dico perché in una città che storicamente può e deve considerarsi patria della carta stampata, la Fondazione di Venezia sostiene con assoluta convinzione, al fianco di Marsilio Ditori e di Cafoscari, il premio Cesare De Michelis, concepito proprio come riconoscimento verso chi crede e opera per dare corpo all'editoria innovativa. e sostiene altrettanto convittamente con Cafoscari, il Comune di Venezia e la Camera di Commercio il Mestre Bookfest, che per la seconda edizione quest'anno raviva il centro di Mestre con iniziativa e sostegno in primis delle librerie, ma anche dei pubblici esercenti. L'auspicio da parte nostra è che queste manifestazioni possono trovare nel prossimo futuro occasioni di partenariato sempre più forti e motivate, a sostegno del patrimonio comune che è la letteratura. Ciò rappresenta per la Fondazione di Venezia nel suo ruolo di investitore istituzionale che ha come missione l'utilità sociale, lo sviluppo economico della comunità territoriale il valore aggiunto che completa le ragioni istitutive del Festival di Incroci dimostrando ancora una volta che la cultura rappresenta un asset strategico su cui questa città, questo paese devono puntare e questo sia perché è giusto eticamente e socialmente e ci migliora come individui e come collettività, sia perché conviene davvero a tutti. E dunque con queste parole auguro un buon proseguimento di Festival e che il 2024 sia fuorilo di nuove e stimolante letture per tutti. E ora invitiamo sul palco il direttore di Incroci di Civiltà, Flavio Gregori. Buonasera a tutti, a tutte e benvenuti a questa diciassettesima edizione di Incroci di Civiltà. Io avevo una cartellina con il mio discorso, mi è stata portata via? No, ecco, c'era lui. Grazie Marco. Cosa ne facevi Marco? Allora, nel discorso inaugurale dell'anno passato, io avevo citato il grande storico olandese Johannes Witzinga, che pochi anni prima della Seconda Guerra Mondiale scriveva, cito, viviamo in un mondo folle e nessuno si stupirebbe se un giorno questa nostra follia cedesse il passo a una crisi così virulenta che lascerebbe l'Europa nella tristezza e nel disordine. Purtroppo, dall'ora, da un anno, le follie che attanagliano l'umanità in un continuo, virulento stato di guerra si sono moltiplicate. La tristezza e il disordine aumentano a dismisura. Dobbiamo per questo motivo cedere allo smarrimento? Vorrei trarre ispirazione per tentare una risposta dalle pagine finali delle città invisibili, il libro di Italo Calvino ispirato al milione. Siamo nel settecentenario della morte di Marco Polo. Pagine in cui si dice che il Gran Can sfoglia nel suo Atlante le carte delle città che minacciano negli incubi e nelle maledizioni e dice il Gran Can tutto è inutile se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale ed è la in fondo che in una spirale sempre più stretta ci risucchia la corrente. Ecco, anche noi ci siamo risucchiati, sentiamo risucchiati nella corrente di questa spirale infernale. Però Marco Polo gli risponde L'inferno dei viventi non è qualcosa che verrà. Se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni. Ci sono due modi, dice Marco Polo, per combattere questo inferno. Accettarlo e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Oppure, al contrario, cercare di riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Ecco, noi abbiamo, se mi concedete di dire così, la umile presunzione di pensare che nel nostro piccolo incroci di civiltà sia una pietra sul cammino che conduce fuori da quell'inferno e dà spazio a ciò che inferno non è e che tenta di far durare quel piccolo paradiso che è in terra che è la civiltà del dialogo e della comprensione. Ecco, voglio cogliere l'occasione nel ringraziare voi tutte e voi tutti della vostra presenza di ringraziare in particolare gli autori e le autrici di Incroci 2024. Vi citerò in ordine strettamente alfabetico Marco Aime, Elif Batuman, Stefano Bonaga, Giuse Bortolucci, Mauro Kovacic, Meliste Carangal, Pierfrancesco Di Liberto, detto Pif, Alvaro Enrigue, Liena Herzog, Emanuele Duma, Elena Janacek, Kapka Kassabova, Julio Yamazares, Ibrahima Loh, Emiliel Malfattò, Federica Manzon, Fiona Macrae, Masa Mengiste, Paolo Mereghetti, Zagiana Nina Perkovic, Daniel Schreiber, Adam Thirwell, Marilena Oumuazadelli, Margarete Fontrotta e Michael Zee. Vorrei anche ringraziare Gollam Najafi, nostro concittadino, già ospite di Incroci nel 2021, premiato come giovane autore, che è qui presente in sala. Vorrei ringraziare della loro presenza gli editori, vincitori del premio Cesare De Michelis, nelle precedenti due edizioni, Navin Kishore e Michael Kruger, e permettetemi, se posso, di ringraziare anche per la sua presenza qui in platea con noi Alessio Boni, che è a Cafoscari in questi giorni per registrare con Radio Cafoscari il podcast sulle tracce di Marco Polo, proprio in occasione delle celebrazioni per Marco Polo, e prossimamente lo potrete ascoltare sulle principali piattaforme di podcasting. Vorrei poi qui ricordare brevemente un nostro caro amico, Marco Ceresa, prematuramente scomparso lo scorso anno. Marco è stato un collega stimato, è un amico personale ed in croci di civiltà, e sentiamo molto la sua mancanza. Questo nostro festival non è facile da comporre, da preparare, organizzare. Il contesto globale, l'abbiamo già stato detto, non ci è certo favorevole, eppure noi siamo qui ancora ostinatamente a proporvi una nuova diciassettesima edizione. Il festival è risultato, se mi concedete, di perizia, conoscenza, competenza, di molta, molta, molta pazienza e di tanta buona volontà. E chi meglio può rappresentare gli uomini e le donne di buona volontà che sostengono in croci di civiltà dei nostri giovani volontari, studentesse e studenti di Cafoscari, che ci aiutano ogni anno a realizzare questo nostro progetto? Perciò vorrei invitare sul palco i nostri volontari, le nostre volontarie, ai quali vi chiedo la cortesia, venite, di fare un applauso che varga per tutti coloro che contribuiscono a fare in croci. Grazie. 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 Ora inizio la consegna dei premi del festival. Invitiamo sul palco il CEO di Marsilio Editori, Luca De Michelis, per la consegna del premio Marsilio. Buonasera, il premio non è Marsilio, il premio è intestato a Cesare De Michelis ed è un premio che nasce appunto, come già ricordato a Giovanni Dell'Olivo prima, dalla collaborazione con la Fondazione di Venezia, con Cafoscari in Croce di Civiltà e nasce dall'idea, sì, di ricordare mio padre che ha i libri, ha dedicato tutta la vita, sia nel suo mestiere, sia con l'insegnamento, sia con la lettura, sia con una biblioteca, insomma i libri erano sostanzialmente il suo mondo, ma anche il fatto, come è stato ricordato, che l'editoria proprio a Venezia ha mosso i primi passi e quindi credo che questo vada ricordato. e poi dal fatto che ci siamo resi conto che mentre esistono al mondo innumerevoli premi dedicati alla letteratura, agli scrittori, ai saggisti, insomma ai libri, a chi i libri li scrive in tutti i modi, non c'era un premio dedicato all'editore. E all'editore soprattutto inteso come questo ruolo aveva interpretato Cesare De Michelis, cioè come non solamente un mestiere, ma come dire una scelta di vita, una vocazione, un mondo tutti insieme. Adesso fra pochi istanti premieremo la terza, finalmente siamo arrivati alla terza edizione, Fiona McRae premiata, a cui consegniamo questo premio insieme a Teresa Cremisi, che è la presidente della giuria del premio Cesare De Michelis e nell'andare avanti, ora che siamo finalmente, come dicevo, al terzo anno, ci siamo accorti che a poco a poco questo gruppo di premiati che vengono a loro volta coinvolti nella giuria anno dopo anno, ha in qualche modo costituito un gruppo di amici, quasi una famiglia, che ci aiuta a portare avanti questa idea dell'editoria e dell'editoria legata a Venezia come un lavoro che si interseca perfettamente con la letteratura che qui a Incroci di Civiltà è celebrata. Per cui chiederei a Teresa e a Fiona di venire sul palco. Buonasera a tutti. Luca De Michelis ha avuto un'eccellente idea, quella di mettere un riflettore su un mestiere che ha confini incerti. Il mestiere di editore non è un mestiere facile da definire, è un mestiere difficilissimo, che richiede qualità certe volte contraddittorie. E abbiamo, insieme a una giuria che, come diceva Luca, si arricchisce di ogni anno, deciso quest'anno di attribuire il nostro premio a Fiona Macrae. Vi leggerò adesso la motivazione che riassume le nostre discussioni. Fiona Macrae, per 28 anni alla guida di Grateful Press, prestigiosa casa editrice indipendente di Minneapolis, è la prima donna a ricevere il premio internazionale Cesare De Michelis per l'editoria. Alla guida di Grateful Press ha creato e consolidato un catalogo di eccellente qualità, con autori insiniti dai premi letterari più prestigiosi, Nobel, Pulitzer, National Book Award, Booker Prize, offrendo un contributo unico all'innovazione del panorama editoriale americano e riuscendo allo fatto di un editore diventato negli anni un punto di riferimento internazionale. Ha dimostrato così che fare bei libri con coerenza e con dedizione non è solo una passione, ma è anche un mestiere ereditizio. Le parole di Navin Kishore, fondatore ed editore di Seagal Books a Calcutta, il primo a ricevere il premio in memoria di Cesare De Michelis, ha riassunto il valore del progetto editoriale perseguito da Fiona. Le nostre letterature sono storie di vita che non sono radicate solo nelle nostre realtà geografiche. Ciò che conta veramente è il mondo, con le sue altre culture, lo scambio di idee. Fiona McRae è un editore consapevole della propria responsabilità di custodere le parole e del linguaggio, nonché della necessità di condividere pensieri, sentimenti, emozioni attraverso i confini sotto forma di libro. Fiona McRae ha sempre teso la mano verso il vasto spazio intuitivo in cui la letteratura attende con speranza di essere resa libera, di essere scoperta, di essere condivisa, di essere letta. Grazie Fiona. Invitiamo sul palco Fiona McRae. Consegnano il premio Marsiglio Luca De Michelis e Antonio Marco Mini. Due parole sul premio, giusto ricordare una foto della fotografa amica Alessandra Chemollo e non poteva che essere una foto di Venezia. Grazie mille. 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 My thanks to all of you for being part of this international conversation, and to the jury for recognizing the work of Grey Wolf Press, to Marsilio Publishers for the incredible generosity of this award and that beautiful painting, and to Cesare de Michelis, a legendary conversation starter. Thank you very much. La Fondazione dell'Albero d'Oro, una giovane realtà veneziana, è orgogliosa di assegnare per la prima volta il premio Giovani Incroci Albero d'Oro a Emiliane Malfato, un'autrice i cui lavori dimostrano che si può essere fotografi e reporter oltre che excelente romanzieri. Nella sua opera, sia fotografica che letteraria e saggistica, Emiliane Malfato ha indagato le condizioni dei luoghi lacerati dai conflitti, i drammi sociali e politici della contemporaneità e drammi personali e intimi, ma carichi delle ferite e dei tormenti della bellicosità umana. I suoi romanzi, basati sulle esperienze personali e incontri realmente avvenuti, hanno già attirato l'attenzione vincendo numerosi premi, tra cui il premio Goncourt per il suo primo romanzo, «Il lamento del tigri», nel 2021, uno struggente spaccato della contemporaneità irrakena e sempre nel 2021 il prestigioso preso Albert Londra per la sua storia ambientata in Colombia, «Les serpents viendranno per toi», un'histoire colombiana, un'indagine letteraria di grande impatto. La Fondazione dell'Albero d'Oro è molto lieta di offrirle una residenza di quattro settimane a Palazzo Vandramin Grimani nella speranza che questo antico spazio di scambi, di incontro e di apertura possa alimentare la creazione letteraria. Grazie e congratulazione a Emiliane Malfato. Invitiamo sul palco Emiliane Malfato. Consegnano il premio Giovani in Croci Fondazione dell'Albero d'Oro, Beatrice Deregnè e Antonio Marcomini. Buonasera a tutti. Grazie a tutti. Io sono malissima per i discorsi, quindi solo voglio dire grazie, grazie mille. Mi sento un po' emozionata, molto onorata e pure grazie per l'invitazione. Sono contentissima di stare qua, è la prima volta a Venezia, quindi grazie. Grazie mille. Invitiamo ora sul palco la presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, Maria Cristina Gribaudi, per la consegna del premio Incroci Fondazione Musei Civici di Venezia. Il rapporto decennale tra musei civici e incroci di civiltà si è arricchito quest'anno di un nuovo tassello fondamentale, intitolando a questa collaborazione il premio che il festival conferisce a uno degli autori più rappresentativi presenti. Il premio Incroci Musei Civici di Venezia consolida così una volta di più la presenza nella città di un festival da sempre particolare perché nato con l'università e con cui MUVE insieme alla città di Venezia ha da sempre un legame significativo e molto profondo perché siamo i luoghi della formazione, dello scambio, terreni di confronto, di conoscenza e di scoperta verso ciò che è altro da noi. Insieme condividiamo la responsabilità di diffondere e di generare valore culturale, di innovarci e rinnovarci, di trovare sempre i mezzi, gli strumenti e le parole giuste per farlo, per parlare a tutti, ma soprattutto con un'attenzione particolare alle nuove generazioni. Non ultimo, siamo uniti anche nel tema di questa edizione di Incroci di Civiltà, il viaggio. Un tema declinato e raccontato in molte varianti come la ricerca di altri mondi, la migrazione, il commercio, il viaggio fantastico e per questo non possiamo che essere qui per ricordare l'impegno dei musei civici e della nostra amministrazione comunale nella celebrazione per i 700 anni dalla morte di Marco Polo. In particolare, con la grande mostra appena inaugurata a Palazzo Ducale, dedicata ai mondi di Marco Polo, al suo viaggio, il più celebre della storia che senza la parola scritta, il milione, con le sue molteplici edizioni e traduzione non sarebbe mai arrivato fino a noi. Solo attraverso il racconto, la sua circolazione, abbiamo potuto conoscere la straordinaria storia di un viaggio e le vicende di un giovane uomo partito certamente per scopi molto pratici, ovvero il commercio, ma mosso prima di tutto da curiosità e dalla voglia di scoprire tutto senza nessun pregiudizio. Una testimonianza di come il viaggio e la circolazione delle idee e delle persone sia lamento indispensabile nella costruzione di culture. Anche alla luce di questo impegno, assegnare per la prima edizione del premio Incroci usei civici a Margaret von Trotta ha un particolare valore e significato. A partire dal linguaggio cinematografico come veicolo, Margaret von Trotta è autrice di importantissimi film, pietre miliari della coscienza non solo tedesca, ma a livello universale e con il suo lavoro ha consegnato all'umanità un grande esempio del dialogo fra quelle culture e la costruzione della civiltà. Attraverso il cinema indipendente, Margaret von Trotta ha saputo raccontare con originalità storie di importanti figure femminile impegnate a combattere ogni giorno la battaglia per la propria libertà. Grazie. Invitiamo sul palco Margarete von Trotta. Consegnano il premio Incroci Maria Cristina Gribaudi e Antonio Marcomini. Sono troppo emozionata per veramente parlare. Quando mi hanno chiamato, vedi, comincio da piangere, ma quando mi hanno chiamato non ho pianto, ho detto sì sì vengo perché mi hanno detto è Venezia. Non ho neanche capito che era letterario perché se mi avessero detto è un festival di letteratura avrei detto ma no, non sono scrittrice, sono cineasta e per me non ho così tanto affare con la letteratura ma loro vogliono chiedermi dopo e allora devo dire cosa penso della letteratura anche. Ma adesso sto qui, sono contenta di essere a Venezia e devo ringraziare tutta questa gente lì che sta sul palco scenico ma anche questi incroci di civiltà e le donne di una camera tutta per sé che mi hanno invitato così gentilmente. Sono contentissima di essere qui e poi devo testimoniare di tutta la mia vita. Questo sarebbe forse anche un po' noioso ma va bene, vediamo. Grazie. 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 Tra un pochino. No, no. In piedi. No, no. Sei qui. Allora questo incontro di oggi con Margarete Fontrotta avviene grazie a una collaborazione importantissima che Ca' Foscari ha fatto per una camera tutta per sé che è già stata citata da Margarete. Ringrazio di questa collaborazione Isola e Dipo, Rete Cinema in Laguna e anche l'Università Ca' Foscari che naturalmente ci ha collaborato e voglio chiamare qui sul palco scenico a rappresentare Isola e Dipo e tutto il progetto la direttrice artistica di Isola e Dipo, Silvia Iopp. Prego Silvia. Grazie. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Grazie a Flavio Gregori per l'invito e queste due parole. Grazie a Margarete Fontrotta prima di tutto per incarnare questa capacità d'avventura che spesso ci dimentichiamo di avere e che credo che sia alla base della forza con cui la letteratura, il cinema, la musica, le arti nascono e cambiano il mondo. Una camera tutta per sé è un progetto che nasce più o meno con la stessa spinta in un territorio che questo veneziano che aveva il desiderio di riuscire a valorizzare la dimensione locale come radice di un respiro internazionale. Come si diceva prima scompaiono i panifici, scompaiono le librerie, scompaiono i cinema. In un momento paradossalmente in cui l'immagine viaggia anche troppo velocemente. E allora abbiamo detto con Isole Dipo, con Rete Cinema in Laguna e con Ca' Foscari che da anni lavora in un modo prezioso su uno sguardo diverso nel cinema contemporaneo, proviamo a creare degli spazi non solo di visione con l'aiuto di circuito a cinema ma anche di collaborazione ed è stato per noi preziosissimo la possibilità di aprire questa collaborazione con Incroci di Civiltà attorno al nome di Margaret von Trotta, che ringraziamo per essere qua e grazie anche a voi per condividere con noi questa avventura. Applausi Noi stiamo ancora un attimo qui, stiamo qui, stiamo qui. Sì. Sì, qui a fianco. Fianco. Sigla. Sì. 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 Stiamo sul palcoscenico, Paolo Merighetti e Marco Dallagassa per l'inizio di Incroci di Civiltà 2024. Grazie. Prego, Margaret, nel mezzo. Buonasera a tutte e a tutti, anche da parte nostra. Io faccio un po' da padrone di casa per dare il benvenuto a Margarete e a Paolo per questa conversazione. Volevo ringraziare, scusate la voce anche io, un po' di raffreddore che mi porto dietro da qualche settimana. Volevo ringraziare Flavio Gregori e Incroci di Civiltà, tutta la squadra, tutti i partner istituzionali e non, per aver inaugurato questa edizione con il cinema. È vero che sembra che il cinema sia lontano apparentemente dalla letteratura, in realtà il cinema è anche scrittura, è una scrittura che si muove sulle immagini, che si muove sugli sguardi. Non c'è bisogno di presentare i nostri due ospiti perché sono molto conosciuti. Paolo Mereghetti, forse l'unico critico cinematografico che è diventato un sostantivo, non si conosce più come il Mereghetti. Scusate la battuta ma era necessaria e Margarete Fontrotta, la conoscete tutti, dico solo una cosa da cui poi iniziamo. È la prima regista che ha vinto il più importante premio al Festival di Venezia, nell'81, il Festival del 32, quindi non subito, però è in qualche misura una delle rappresentanti più importanti di uno sguardo femminile nella riscrittura del cinema che tutti i movimenti che dagli anni 60 in avanti attraverso le nuove onde in Germania, in Francia e in altri paesi hanno rivoluzionato tutto il cinema appunto d'autore ma soprattutto in questo caso del cinema d'autrice. Quindi con una camera tutta per sé, questo progetto che vi abbiamo un po' raccontato, di cui siamo molto contenti, cerchiamo di andare alla radice dello sguardo femminile del cinema, cioè come la camera, non la camera da letto o il salotto, ma la camera, la videocamera, la cinecamera, la cinepresa possa in qualche misura riconoscersi come uno sguardo femminile. Io partirei forse da qui, se sei d'accordo Paolo, con questa conversazione chiedendo a Fontrotta come si fa a riconoscere la sua femminilità nello sguardo della sua macchina da presa, delle sue storie. Ma che domanda, la femminilità ce l'ho o non ce l'ho, ma sono una donna, dunque non è che mi chiedo, ma tu sei una rappresentante della femminilità. Sono una donna e ho vissuto con una donna sola, ho vissuto con mia madre che non era sposata, dunque tutta la mia infanzia ho vissuto con una madre sola, una donna, dunque è una donna molto emancipata, una donna molto indipendente, che dall'inizio mi ha insegnato di pensare per me stessa e non mi fare guidare dagli uomini. Scusate, era una donna un po' come da oggi. Adesso ho visto tutte queste donne che venivano sul palco scenico, che sono sempre quelli che aiutano, sono loro che parlano, le grandi ritori. Andiamo via subito. No, ma quelli che hanno la parola, e poi ho pensato, ma quante di queste donne che sono state lì, tutti così carine, così, sì, belle di vedere, ma chi alla fine sarà qui per parlare, per avere la parola, no? Dopo, forse a un festival in dieci anni, no? Perché sono giovani. Va bene, allora questo è un discorso che non si fa. No, allora lui voleva sapere dove è la mia femminilità nel cinema. Per esempio nella scelta dei personaggi femminili sono... Sì, ma io non conosco altri. No, 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 va bene. Nella mia infanzia sono stata sempre confrontata con le donne e dunque mi sono sentita come una donna che ha dato qualcosa da dire. Quando finalmente, dopo una certa battaglia, no? Perché non era così, tutti i miei colleghi tedeschi che hanno cominciato a 26, 27, 25 anni di fare cinema, io ho dovuto aspettare un po' di più e fino a... quando finalmente ho potuto fare il mio primo film, primo con un uomo insieme, Fröke Schlondorf, l'onore perduta di Katarina Blum. Il caso di Katarina Blum. Sì, il caso di Katarina Blum, in tedesco sì, l'onore perduto di Katarina Blum. E dunque quando ho cominciato a fare cinema c'era già il femminismo, dunque c'era già questa idea che si deve anche fare una battaglia per le donne. Dunque da nascita ero così naturalmente donna e mi sono interessata per le donne, per le madri, per le mie amiche. Ma lì, quando ho cominciato finalmente, allora è venuta anche un'idea per chi devo fare i film. Dunque è stata come naturale che ho parlato di donne. Non era un progetto così, come si dice, dove è una mancanza, dove posso entrare come prima. No, no, era molto naturale. E' vero che sarà stato molto naturale, però non era molto diffuso, nel senso che non c'erano, per dare dei riferimenti cronologici, il caso di Katarina Blum, che è la prima coreggia, è del 1975, mentre il primo film da sola, cioè il secondo risveglio di Christa Klagel, era del 1978, prima, tanto per ricordare, aveva fatto l'attrice, aveva cominciato studiando a fare l'attrice, ha recitato con Fassbinder, e poi aveva fatto, e poi, per cui, prima che aveva interpretato, prima a fianco di Fassbinder, nel primo film che ha fatto, che era Bal, e poi aveva interpretato alcuni film per Fassbinder, diretti da Fassbinder, anche io, ahimè, e poi aveva cominciato a fare la sceneggiatrice, assieme a quello che allora era il suo compagno e poi sarebbe diventato il suo marito, che era Volker Schlondorf. Ecco, facciamo, torniamo a parlare delle donne nel suo film in maniera forse più, meno, 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 delle domande meno difficili. Se uno guarda la sua filmografia, si accorge che, da una parte, tutti i suoi film hanno donne come protagoniste, tutti, cioè non me ne viene in mente uno dove non ci siano delle donne. E in tutti questi film, all'inizio, spesso, raccontano la storia di due donne che si scontrano, che si confrontano, penso a Sorelle, penso a Anni di Piombo, penso a Lucida Follia, penso al film tratto da Chekhov che si chiamava Paura e Amore, e poi, invece, queste due facce diventano le due facce della stessa donna, all'interno della stessa donna. Le contraddizioni, diciamo, potremmo dire oggi, oppure la diversità, la ricchezza di queste donne. Rosa Luxemburg, Rosa L, poi Il lungo silenzio è la storia di una vedova che lotta per scoprire la giustizia sulla morte del figlio, un film fatto in Italia, ma poi Rosenstrasse, poi Anna Arendt, e l'ultimissimo film, quello su Ingeborg Backman, che vedrete fra un paio di giorni e di cui parleremo più avanti. Ecco, come dire, come mai questa scelta, soprattutto questa voglia di raccontare, lei prima ha detto che erano tempi di femminismo quando ha cominciato a fare il film, però se uno pensa a alcuni film femministi, li vede come film che rivendicano in qualche modo qualcosa contro una società che non voleva concedere dei diritti. Invece nei suoi film queste cose non ci sono, sono più dei film che scavano all'interno dell'animo delle donne. Sì, sì, è vero, ma forse viene anche dal fatto che i primi film che ho visto come veri film, come film di d'arte, diciamo, erano a Parigi, quando sono andata a Parigi avevo 18 anni, e come Hannah Shigula, per esempio, un'altra tedesca attrice, anche altri che dopo sono diventate registe, abbiamo quasi fuggito la Germania nei primi anni 60 perché erano veramente ancora anni di piombo, erano anni di piombo, dunque per sentire un po' di libertà, di sentire un po' la cultura anche francese, siamo andati lì. E lì ho incontrato dei studenti francesi, perché la Nouvelle Vague era già creata, era già in 56, 57 ha cominciato, allora studenti francesi che erano pazzi di questa Nouvelle Vague e mi hanno portato al cinema, in Germania non andavo molto al cinema, andavo al teatro, andavo ai concerti, allora loro mi hanno portato nel cinema dove si dava i film di d'arte, diciamo, e allora ho visto Ingmar Bergman, il primo film che ho visto di lui era il settimo sigillo, e questo film era come una bomba nella mia testa, o anche nel mio cuore, era così importante che ho detto, ma questo voglio fare. Una volta nella mia vita, non sapevo neanche come si può arrivare, ma voglio fare cinema come... e allora il mio maestro era Bergman, era un uomo, perché non erano tanti altri, abbiamo visto Hitchcock, abbiamo visto i western, abbiamo visto tutti i film fatti dalle uomini, dunque non mi sono neanche chiesto perché non erano donne, no, ho visto questi film e mi hanno talmente impressionato che... ma Bergman, se si vede i film di Bergman, le donne hanno un grande ruolo, e lui parla delle donne, e mi ha detto una volta, perché l'ho conosciuto molto dopo, mi ha detto, ma io mi sento come donna, e allora forse viene da lì, che lui si sentiva molto, molto vicino a delle donne, e mi ha impressionato come uomo, parlando delle donne, che per me era quasi un heritage, no, così dicevo. Un heritage. Sì, sì. Non è neanche un programma così, no, che devo... Ma dicendo questo, quando ho cominciato, ho anche pensato che sono tante donne che non hanno la possibilità di parlare di sé, non hanno la possibilità di entrare dentro sé, e presentare sé in un altro modo che questi classici, o la... the whore, no, la puttana, o la madonna, o no, erano un po' questi... Stereotipi. Stereotipi. Sì. E se ho la possibilità di fare cinema, allora ho anche la responsabilità di parlare delle donne che non hanno questa possibilità. E questo era come un programma. era il progetto... E spesso nei primi film, soprattutto, queste donne si devono confrontare con il mondo intorno, cioè con la politica. Il primo film è la storia di una donna che per non far fallire l'asilo autogestito fa addirittura una rapina, poi scappa, poi torna in Germania e fa i conti, diciamo, con quelle scelte. Sorelle è la stessa cosa. Non parliamo di anni di piombo su cui poi torneremo, ma anche Lucida Follia racconta queste cose. Il problema della politica è stato sempre molto importante per lei, soprattutto nei primi film, poi beh, anche negli anni. Sì, ma forse anche per la mia generazione, perché sono nata nella guerra, dunque ho vissuto a Berlino, dunque di vivere nella guerra a Berlino, poi soprattutto dopo la guerra, quando i miei primi ricordi è una città completamente distrutta. Adesso quando vedo queste immagini di Gaza e tutta questa distruzione delle case, mi viene la mia infanzia in mente che come bambina o come bambini non si sa chi è il colpevole per tutta questa distruzione. Si vive nelle rovine, ma non si sa da dove viene. E per lungo tempo non abbiamo noi tedeschi, giovani tedeschi, non abbiamo saputo che siamo stati noi i colpevoli di tutto questo disastro. perché i nostri genitori non ci hanno detto niente. Nelle scuole non si parlava, era un'epoca che era come si parlava nella scuola e nell'istoria, fino al primo a Hitler, la venuta di Hitler e poi dopo la guerra. È come un vuoto in mezzo. e per quello anni di piombo per me non era legato al piombo, agli armi. Era per me un'atmosfera da noi negli anni 50. È come un cielo di piombo che era sopra di noi. Non abbiamo capito cosa era prima, ma abbiamo sentito questa pesantezza e con il 68 e anche già prima che abbiamo capito quello che ha fatto la Germania. Abbiamo avuto una tale sì, una rivelazione, ma anche una specie di rabbia contro la nostra generazione di prima. Perché non ci hanno detto niente e perché l'hanno fatto. e questo due di sentirsi in un modo anche colpevole perché facciamo parte del stesso paese, ma dell'altra parte di rimproverare ai nostri genitori cosa hanno fatto. Questo insieme era un po' l'inizio anche di questa rabbia, di questo questa voglia di tirar fuori il certo. Il primo film di fatto in qualche modo racconta la difficoltà della felicità, lei fa fatica, si chiede perché non può essere felice, c'è questo scontro tra l'utopia e invece i problemi concreti. Una cosa che unisce sempre i suoi film, continuiamo così, è il fatto che spesso sono delle figure non particolarmente eroi, che non sono almeno all'inizio, sono delle impiegate, sono delle persone quotidiane che poi invece diventano immediatamente emblematiche della condizione umana e della condizione femminile e anche quando ha raccontato storie di personaggi storici importanti, le sorelle Eslin in Anni di Piombo ma anche Rosa Lu, Luxemburgo Ann Arendt o l'ultimo Ingeborg Bachmann in qualche modo lei tende a togliere la parte diciamo mitica e pubblica per andare a scavare un po' nelle cose nel privato di queste persone. Sì, perché io non penso anche un politico deve avere qualcosa di privato e anche delle emozioni e anche delle disperazioni. Per me una persona diventa una quando ci sono tutti questi aspetti e per la prima grande donna come si dice che ho fatto un film era Rosa Luxemburg e non era neanche la mia scelta all'inizio non avrei avuto il coraggio di dire adesso io faccio un film su Rosa Luxemburg ma era un progetto di Fassbinder che è morto prima di poter fare il film allora il produttore di lui mi ha chiamato adesso devi fare tu il film e ho detto ma no ma non conosco niente di lei conosco solo che era una politica una rivoluzionaria ma non devo capire devo capire molto di più prima di e poi non posso fare il film che ha scritto Fassbinder per se stesso devo prima capire chi è lei e chi è lei per me dunque non posso farlo e lui ha detto tu devi farlo perché sei stata amica di Fassbinder e sei una donna oh questa è la prima volta che questo era un vantaggio no di essere donna dunque no era proprio così allora ho detto va bene io comincio a leggere e tu devi darmi il tempo che posso capire cosa è per me Rosa Luxemburg cosa voglio raccontare di lei allora lui ha detto di sì mi ha dato tempo e ho cominciato di leggere ma perché era una rivoluzionaria una comunista una che non ho trovato solo libro scritto dai dei comunisti dei scrittori più o meno di totalmente di sinistra che non per loro contava solo la politica e non la vita privata non se ne parlava mai e dunque non mi è bastato e ho capito che lei ha scritto tantissime lettere a tutti i suoi amici ai compagni ma anche alle persone private e tutte queste lettere erano nell'istituto marxismo leninismo a berlino est e io ho chiesto se posso venire per mi hanno dato il permesso allora sono andato ogni giorno da berlino ovest a berlino est era veramente una tortura perché questi che stanno alla frontiera che erano così non hanno mai sorriso niente era veramente una condanna di fare questo viaggio ogni giorno ma sono andata all'istituto dove erano le sue lettere e lei lì in questo momento adesso sono anche di più ma in questo momento ci erano 2500 lettere io ho letto tutte queste lettere e mi sono detto quello che rimane dopo questa lettura questo rimane nella mia testa questo è quello che voglio raccontare e così mi sono avvicinata di lei in un altro modo che solo leggere i suoi scritti politici ed è stato il suo film più difficile è stato grazie molto gentile con me è stato il film più difficile da girare Rosa Luxemburg ho avuto delle difficoltà proprio personali anche di entrare dentro i personaggi per altri film Anna Arendt o altri film magari non su personaggi storici è strano che questi film su grandi personaggi femminili come Rosa Luxemburg e Anna Arendt e adesso Ingeborg Bachman sono sempre venuti venuti da me da fuori non era mai sulla mia idea io voglio fare anche Anna Arendt era un amico con chi mi ha già fatto con me altri film era della televisione tedesca a Colonia e lui ha detto tu devi fare un film ma non è possibile ma quando una volta mi mettono questa idea in testa comincia di lavorare e allora anche lì ho cominciato di leggere anche lettere di nuovo tante lettere ma poi sono anche andata a New York e ho trovato ancora un'amica che era ancora in vita di lei che mi ha raccontato molto ho incontrato il suo ultimo assistente e delle persone che la conoscevano e poi ho chiesto a una mia coscenatrice che aveva già fatto un altro film Rosenstrasse con me una sceliatrice americana Pam Katz e io l'ho chiesto ma tu sei sei pronta di fare questo e lei subito e lei è andata subito a fare ricerche eccetera lei non aveva questo problema lei scrive solo la letteratura scrivere questo è per lei per me è facile uno scrive e non deve poi entrare a fare questo che ha scritto di metterlo in scena e di mettere delle immagini e poi qualche volta anche si scrive per esempio il sole cade alla fine della giornata è scritto velocemente lo scrivi nella sceliatura poi stai lì con tutta la tua truppe di 50 persone e il sole non cade perché non c'è sole ma in questo momento devi girare perché i soldi sono tali che non puoi cambiare questo è un esempio un po' semplice ma ci sono queste difficoltà enorme di andare della sceliatura di quello che abbiamo scritto fino all'immagine e per quello lei era molto più entusiasta di me ma poi abbiamo fatto questa ricerca enorme e abbiamo girato il film ma dopo sette anni per la produzione erano sette anni che ha dovuto cercare i soldi e io dico sempre se avessimo fatto un film sull'amore di Heidegger con lei Hannah e Martin avremmo avuto i soldi molto più presto ma no non certo Heidegger c'è nel film ma lei ripensa in maniera critica al proprio rapporto è importante per lei è anche importante di farlo vedere di nominarlo ma non di fare una 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 love story no questo no e lì anche abbiamo scelto un momento solo quattro anni un momento importantissimo per noi per la nostra storia no perché l'abbiamo anche fatto perché lei ha dovuto lasciare la Germania dopo che Hitler è venuto al potere e come ebrea e anche come intellettuale eccetera lei ha dovuto lasciare il paese è andato in Francia ha avuto il permesso di stare lì ma quando sono venuti i tedeschi in Francia l'hanno diportato gli ebrei a Gurs lei è andata a Gurs era un campo per le donne poi gli uomini in altri campi e lì è fuggita e ha potuto andare poi dopo in America ma aveva perso la sua nazionalità non era apolida allora per avere un viso di andare in America era molto difficile per lei poi non parlava l'inglese ha fatto come io andando a Parigi per diventare fiopère lei ha dovuto ma era molto più adulta già andare in America imparare prima l'inglese dunque erano tutti delle stazioni nella sua vita che sarebbero stati molto importanti anche molto interessanti ma abbiamo proprio scelto questi quattro anni del processo di Eichmann e quello che lei scrive su di lui e questo terrore poi dopo contro di lei per quello che aveva scritto e per me era quando abbiamo avuto questa idea di quattro anni che è lì che ho pensato sì devo fare il film lei prima ha citato ha detto che Anna Arendt siete troppi gentili ha detto che Anna Arendt era apolide anche lei è passata attraverso questa cosa se vuol dirci qualcosa e soprattutto come dire col fatto che poi da questo problema è venuta fuori il fatto che lei si sente cittadina d'Europa e non soltanto tedesco francese è vissuta a Parigi è vissuta a Roma è vissuta ovunque ma prima mi ha chiesto se la mia madre era sposata o no perché lei il cognome di Margaret von Trotta è il cognome di sua mamma e non di suo papà e l'ho chiesto ma come mai lei porta il nome di sua mamma sarebbe per l'Italia in questi tempi sarebbe stata la figlia del peccato è un peccato sì dunque sono una figlia peccatrice o la mia madre è peccatrice la mamma la mamma no dunque perché lei non era sposata ho il nome della mia madre mia madre veniva di una famiglia aristocratica come si può vedere Margaret von Trotta è sempre la aristocratia e lei è nata a Mosca di una famiglia tedesca ma baltica che sono andata a vivere a Mosca perché il suo padre era uno che faceva dei affari in Russia ma perché tutta la famiglia veniva da Riga dunque dai paesi baltici che in questo momento del zarismo facevano parte della Russia adesso lo vediamo con Putin che vuole riavere tutti questi e poi dopo la dopo la rivoluzione tanti aristocratici tanti aristocratici hanno dovuto fuggire della Russia e sono andati o a Parigi o a Berlino dunque la mia famiglia è andata a Riga perché venivano da lì da questi paesi baltici e in questo momento subito dopo la rivoluzione era un poco di tempo che sono stati indipendenti dunque potevano andare lì ma hanno perso la loro nazionalità tutti quanti che sono fuggiti perché il guayom dello zar era finito ha cominciato un nuovo un nuovo sistema e dunque tutti come Hannah Arendt quando Hitler e i nazisti sono venuti al governo tutti loro hanno perso la loro nazionalità allora mia madre no prima forse racconto per tutta questa gente che di un colpo non avevano più un passaporto non potevano testimoniare chi sono e come a Parigi adesso si chiama questa gente sulle strade che vengono da tutti i posti del mondo le sono papiers e non hanno documenti non hanno documenti e allora c'era un scientifico non come si dice un Nansen Friedhoff Nansen un Forscher si uno ricercatore e anche uno di un Nazi Forscher e lui era diplomato ma anche un ricercatore e lui ha capito che questa situazione per questa gente è terribile e perché era anche diplomato ha avuto la possibilità diplomatico aveva la possibilità di dire dobbiamo dare dei papiers dei documenti a questa gente allora lui ha fatto in modo che hanno avuto dei documenti ma non una nazionalità non poteva dare una nazionalità dunque erano documenti per Apolodi e mia madre è rimasta Apolida fino alla sua morte e si non voleva diventare tedesca strano non ho mai chiesto perché ma si può anche immaginare ma dunque perché io sono stata figlia non sono anche io stata Apolida fino al mio primo matrimonio e devo confessare che ho fatto il primo matrimonio per avere la nazionalità finalmente si intuiva sono episodi che ci riportano al contemporaneo che ci raccontano di come i movimenti delle persone e le difficoltà di migrare come dire rappresentano diciamo un'attualità nelle varie fasi della storia del novecento nelle varie fasi della storia europea i suoi film spesso hanno hanno dei flashback per cui c'è la storia delle famiglie delle infanze dei personaggi ma è anche un modo per raccontare il passato il rapporto che c'è stretto tra il presente dei singoli personaggi che le racconta e le loro storie e le storie delle loro famiglie eccetera quindi grazie per questa testimonianza io cercherei di abbassare un po' il tono della conversazione in realtà portandola qui a in Italia nel senso che lei ha avuto molte relazioni con l'Italia nei suoi film spesso e volentieri i personaggi viaggiano in Italia o addirittura solo in Italia a partire appunto per esempio da Danni di Piombo fino all'ultimo film di Ingeborg Bachman e le chiederei un po' come si sente legata a Venezia in prima battuta ma anche diciamo all'Italia al cinema italiano ma il cinema italiano era uno dei più grandi cinema della storia perché già con con De Sica e con i primi film dopo guerra avete avuto una cinematografia così forte che no e anche Scorsese dice sempre il cinema italiano era il più importante e forse anche oggi è ancora molto importante forse non più il più importante ma dunque per noi era anche dopo non c'era una una rottura avete avuto veramente una continuità di grandi registi di grande di grande cinema dunque per me era dall'inizio quando ho cominciato di capire cosa è il cinema dunque a Parigi per me era molto importante e poi certo Venezia quando sono venuta qui avere questo premio era era così come come essere di nuovo rinascere no e poi sono venuta spesso poi sono andata dopo Rosemary Luxemburg ho avuto un'offerta di un produttore italiano per fare paura amore anche il lungo silenzio tra l'altro no questo era prima paura amore questo è sono venuta in Italia e ho chiesto a Samaraini che scrive la scingiatura con me perché era un secondo il il piezo di teatro di tre sorelle e dunque ho dovuto scrivere in italiano parlavo già un po' italiano ma poi ho chiesto ad Asha Marini che aveva fatto i sottotitoli per me per i primi film anche per Anni di Piombo dunque abbiamo già avuto un'amicizia e lei era perfetta di fare questo film con me e poi io pensavo di tornare in Italia in Germania ma dopo il film mi hanno chiesto di stare di fare un altro film e mi ha talmente piaciuto di stare in Italia sono a Polida dunque io posso stare dove voglio dove mi piace in questo momento mi ha piaciuto molto l'Italia e come gli incroci sono una nomade sempre stata dunque l'Italia per me era molto molto un tempo molto bello molto bello ho fatto tre film in Italia il lungo silenzio era l'ultimo l'africana era l'africana che era anche a Venezia che ha aperto il festival di Venezia in questo anno e poi dopo si sono tornata dopo il muro la caduta del muro ho fatto un film su questo tempo ma per me l'Italia era molto importante e sono andata via in 92 credo 92 93 quando Berlusconi è venuto al potere ma non sono stata neanche io che volevo andare via ma avevo in questo momento aveva un amico italiano che voleva andare via come tanti italiani in questo momento sì mi ricordo sì è così destino vorrei fare una domanda a Paolo cambiamo un po' diciamo l'ordine delle domande perché l'abbiamo invitato Paolo anche perché ha scritto e scrive continua a riscrivere questo importantissimo dizionario che consultiamo tutti noi tanto che alcuni amici mi chiedevano ma si può fare il firma copie del dizionario Mereghetti perché questa tradizione di incroci prevede che i scrittori portino i loro libri e che poi i lettori si facciano autografare e secondo me ti chiedo Paolo il lavoro di Margarete che è un lavoro che attraversa le cinematografie i periodi i periodi storici i generi in parte in qualche misura forse è una filmografia tra le più difficili da riuscire a concentrare descrivere e valorizzare attraverso il tuo dizionario perché una delle caratteristiche che mi piace sottolineare del lavoro di Paolo e della sua squadra è quello di continuare a riscrivere il dizionario non è sempre lo stesso dizionario ma ogni scheda viene riletta ed è un modo anche per riguardare il cinema ripensare ai canoni ripensare ai modi di guardare è verissimo nel senso che per prepararmi a questo incontro ho studiato un po' la biografia di Margarete ma sono andato anche a rivedere un po' di schede alcune schede non mi piacciono vanno rifatte perché sono troppo schematiche perché sono troppo brevi perché ci sono molte cose in più da dire proprio perché se uno guarda naturalmente quando all'inizio abbiamo fatto le schede le abbiamo fatte sulla memoria abbiamo fatto ho cominciato nel 93 quando lei aveva già fatto molti film e quindi come dire spesso queste schede sono fatte su ricordi che uno aveva e però ti accorgi che se tu riesci a vedere una filmografia con un po' di distanza e riesci a vedere lo sviluppo completo di questo di questo regista non perché necessariamente i film debbano tutti raccontare la stessa cosa o avere un filo rosso che li lega ma proprio perché capisci come il regista su alcuni film ha voluto sottolineare alcune cose su altri invece ha preferito fare altre e queste cose lo capisci soltanto se hai presente un po' tutto il percorso e è per quello che ogni volta riguardiamo in qualche modo le filmografie dei registi proprio perché così stiamo facendo per la nuova edizione abbiamo cominciato con Godard stiamo facendo Bugnoel ne abbiamo tanti altri su cui rivediamo un po' le cose adesso mi toccherà assolutamente fare i film di Margaret Fontrota anche se non è semplice trovarli perché vanno rivisti e quindi bisogna ci metteremo a cercare i film basta parlare di me parliamo parliamo un po' di lei no 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 niente no basta no perché è un grande critico di cinema dunque anche un grande scrittore non solo come me no e allora non sono capace di scrivere più di 25 righe le schede sono ossessionato dalla lunghezza quindi non scriverò mai un romanzo perché la cosa soltanto mi spaventa ma c'è ancora il tempo ma c'è la nuova edizione il dizionario che incombe quindi devo prima fare le schede io ho un'altra curiosità per Margarete che riguarda il suo rapporto con le attrici lei è nata ha iniziato appunto la sua carriera come attrice e in alcune dichiarazioni lei lo raccontava lo diceva io ho fatto l'attrice quasi proprio per prepararmi a entrare nel set e poi diventare regista perché il mio interesse non era di essere attrice ma di andare dietro alla macchina da presa però poi il rapporto che ha con alcune attrici che tornano nei suoi film spesso è quasi intimo è quasi non so se un amore figliale o una sorellanza visto che lei racconta molte storie di sorelle ecco quindi le vorrei chiedere un po' come lavora con le attrici se le fa se le lascia il tempo per entrare nei personaggi se scrive molto con loro se le dirige se le lascia lavorare sì sì no ma tutto insieme no ma sono diventata attrice perché non vedevo la possibilità di diventare subito regista no non era proprio pensabile dunque era come inconsciamente per 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 avvicinarmi del cinema sono diventata attrice e così mi sono introdotta no come attrice ma ho sempre durante tutto il tempo che ho fatto film come attrice ho sempre anche guardato come fanno come fanno i registi e ho sempre chiesto delle cose che non un'attrice normale non lo fa no perché sapevo già dove voglio andare non sapevo si riuscirà ma e allora quando finalmente sono diventata regista non ho più fatto l'attrice perché altri adesso delle donne che fanno cinema sono anche attrici e rimangono attrici ma per me era proprio chiuso ho avuto la mia ho realizzato il mio desiderio ma mi ha servito certo per lavorare con le attrici anche con gli attori non è che faccio una differenza che dico ma quelli sono attori e non mi occupo di loro no no mi occupo di tutti ma certo perché le donne sono sempre un po' i protagonisti allora e con 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 Barbara Sukova per esempio ho fatto sette film e dopo questi questi tanti film sappiamo ci guardiamo così e sappiamo già cosa 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 deve succedere perché lei è molto intelligente e per esempio anche per per Usalux ha letto tutto quello che ho letto io prima anche ha trovato una perché lei ha fatto una 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 un discorso contro la contro la la guerra la guerra di 1914 e lei era internazionalista allora ha sperato che non c'era la guerra che i socialisti vanno contro la guerra e poi sono andati per la guerra e lei era proprio disperata no e allora lei prima ha fatto un discorso contro la guerra che io avevo scritto una 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 un discorso che avevo trovato anche da da lei e poi un giorno Barbara viene e dice io ho trovato un altro discorso che è ancora più forte dunque l'ha trovato lei perché ha letto tutto quello che ho letto prima ha letto anche lei per capire questo personaggio e abbiamo preso la sua la sua trovata è così per dire che lei entra talmente in un personaggio che diventa quasi il personaggio Rosa Luxemburg adzoppicava no e lei l'ha fatto per 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 il film e ancora sei settimane dopo che il film era finito lei adzoppicava ancora e non si è reso conto dunque anche per Hannah Arendt per esempio voi avete visto il film Hannah ha parlato con questo accento terribile tedesco in inglese che normalmente nei film americani sono i tedeschi i soldati tedeschi o nazisti che parlano con questo accento ma è normale un tedesco che non ha parlato mai inglese ha questo accento terribile e lei l'ha studiato e l'ha parlato tre tre mesi dopo che abbiamo cominciato il film solo per avere poi la naturalezza la naturalezza con questo era così forte che ho detto no non lo puoi fare vai un po' giù perché così pensano tutti che tu sei una detta di Hitler non è possibile ma per dire come lei si prepara e ha messo in furia tutta la sua famiglia di parlare tre mesi con questo accento terribile un terribile accento tedesco che capite forse quando i turisti vi chiedono dove è la strada per la stazione no è un po' per l'inglese è la stessa cosa grande attrice grande attrice si vede se c'è ancora un po' di tempo avrei due domande una sono molto curioso di sapere qualcosa di Fassbinder perché è un regista che per la mia generazione è stato importante ma adesso è quasi dimenticato invece mi sembra lei ha recitato accanto e ha recitato per lui in tre film sì no ma lui era un genio lui era veramente una una persona eccezionale e molto molto prima molto troppo presto ma forse perché lo sapeva già che morirà in questa età giovane che ha fatto quattro film per anno e sapeva sempre esattamente cosa volevano e non ha mai sprecato il materiale come fanno anche Nani Moretti e altri in Italia che hanno talmente di materiale che possano da noi sia all'inizio abbiamo dovuto essere molto molto economico e lui era il più economico di tutti perché sapeva da lì a lì fa una carrellata da lì un piano un primo piano e non non ha sprecato il materiale per niente per quello ha lavorato molto 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 e velocemente e così ha potuto fare quattro film per l'anno normalmente si fa un film tutti i due anni no al massimo uno per l'anno ma lui ha fatto quattro film per l'anno e dunque veramente aveva questo questa capacità no e lui non è mai andato a una scuola di cinema ha visto ha visto venti trenta volte un film per capire come l'ho fatto anch'io non ho avuto nessuna scuola la scuola per noi era di andare al cinema e vedere i film e di rivedere rivedere e così abbiamo imparato bisogna parlare di Anni di Piombo a questo punto anche perché Anni di Piombo fu premiato a Venezia da una giuria presieduta da Italo Calvino che non era sicuramente questo per me era l'ultimo per me un così grande scrittore che lui era nella giuria o era presidente della giuria era per me forse il più grande regalo sì e Calvino quando ha premiato il film ha detto che tutti si erano innamorati dell'umanità di questo film ecco se poi pensiamo che questo film racconta come dire come una sorella cerca di scoprire le ragioni del suicidio tra virgolette in carcere dell'altra sorella un caso che ha diviso la Germania c'era materiale per fare un film arrabbiato politico di tutti i tipi da una parte o dall'altra come dire un film molto aggressivo tra virgolette dove l'umanità era l'ultima delle preoccupazioni e invece mi piacerebbe capire cosa l'ha spinta a fare un film così umano perché o sempre perché quando come in Italia certo erano dei criminali nella sì perché faceva parte della RAF la rote della RAF che la prima generazione era anche una reazione contro la nostra storia io l'ho visto sempre così e allora ho cercato un po' da dove viene allora mostro questi due ragazzi sono due sorelle che una che survive e che poi cerca di capire se era un suicidio o no e dunque erano come bambine erano come me sotto le bombe e non come bambina o come bambino non si capisce chi è colpevole no si sente come una vittima no e poi viene una scena quando sono sono già adulti ma c'è la guerra di Vietnam e si vede questi ragazzi questi bambini che sono con questo gas no che sono vulnerati feriti delle bombe delle americane e lì si vede chi è il colpevole e da lì si può rintrecciare la nostra storia verso i nazisti e dunque queste etappe di una prendere la conscienza della tua propria storia non solo della storia del tuo paese ma anche la tua storia in questo paese questo era per me importante perché quando ho fatto Rosa Luxemburg dopo l'ho capito che veniva da lontano non era solo con Hitler che era già prima no ha cominciato questa storia anche contro gli ebrei e quindi ne è uscito un film dove come dire era più importante raccontare l'umanità di queste persone tra l'altro c'è una sequenza in anni di piombo che secondo me è quasi una citazione voluta Ingmar Bergman quando le due sorelle non è una non avevo visto ancora tutti mi hanno sempre chiesto ah lì hai imitato Bergman ma è venuto senza anche che lo volevo perché era il vetro fra le due e quando si sono avvicinati si vedeva l'un l'altro nel vetro dunque erano e c'è un momento che mi è piaciuto moltissimo ma che ho visto solo dopo nelle rushes no che le due le due facce si sono sovrapposte sovrapposte e di un colpo Barbara che ha fatto il membro della RAF aveva una faccia di una vecchia donna come io adesso veniva queste due facce insieme donnavano una faccia di una donna vecchissima e è lei che è morta dopo era l'ultimo ritratto di lei prima della sua morte e questo mi ha mi ha dato questo sì mi ha piaciuto come indicazione verso la morte è una sequenza toccante veramente io l'ho rivista da pochi giorni devo dire che sì sì ma tutti hanno detto ah sì sì per il tuo amore per Bergman la però è un amore che alla fine entrava prima ancora io sono Bergmaniana dentro ha fatto anche un documentario su Ingmar Bergman lei sì nessuno di voi ha visto non è mai arrivato in Italia non è mai arrivato in Italia però lo faremo arrivare eh vabbè vogliamo concludere adesso le chiediamo di presentare il film sì adesso dovete far vedere tutti i miei film e così posso tornare allora intanto ci saranno intanto ci saranno due film ci saranno due film al Rossini venerdì fra due giorni alle 5 ci sarà Anna Arendt e alle 8 ci sarà poi con Margarete in sala la proiezione dell'ultimo suo lavoro che appunto è dedicato a Ingbert Bachman a cui secondo me sarebbe bello concludere questa conversazione raccontandoci un po' come è nato questo film c'è una scrittrice una poetessa con cui concludiamo ma parliamo di questo film quando sarà montato però per quale motivo conviene essere venerdì questo è un film che veniva dai miei produttori che loro sono venuti e mi hanno detto che adesso devi fare un film e Max Frisch e Max Frisch la sua perché sono quattro anni che lei ha vissuto con Max Frisch che era un grande scrittore svizzero e dunque dopo lui l'ha lasciata e lei è quasi quasi si è quasi succidata per questa e per dirvi perché mi sono interessata a questa storia delle due perché lei era una donna molto emancipata molto molto libera molto non voleva mai sposarsi come sempre la mia storia ma era molto prima della sua età e dell'età del tempo e lui voleva sposarla e lei ha sempre detto di no e poi dopo quando lui l'ha lasciata certo come spesso gli uomini lo fanno per trovare una donna più giovane lei ha quasi sofferto moltissimo e non si è rilevato fino alla sua fine non ha mai veramente superato questo e questo mi ha interessato come una donna che non vuole sposarsi che è così libera così avanti del suo tempo e al momento che perde l'amore che diventa una donna come tutti le altre anche queste sono queste queste sono le caratteristiche che mi interessano non voglio mai potretare potretare ritratare una persona di un pezzo devono avere delle sfumature più che sfumature proprio tante tante facce quasi così bene abbiamo ottimi motivi per vederci anche venerdì tutti insieme al cinema Rossini ne approfitto comunque per ringraziare Paolo Mereghetti e soprattutto Margherita Sontrotta grazie a voi grazie di essere venuti e grazie a questi due uomini fantastici grazie grazie siamo uomini grazie non poteva esserci il migliore inizio di incroci di civiltà con questo grandioso incrocio perché più grande di così è veramente difficile trovarlo ringrazio tanto Margherita Fontrotta Paolo Mereghetti e Marco Dallagassa e buoni incroci a tutti grazie 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 a tutti